Con un poker di reti, l'Aquila Calcio batte 4-0 il Fabriano Cerreto, con una gara dominata più sulla scenicità che sulla bella prestazione di gioco. L'importante era vincere, i Rosso-Blu hanno raggiunto l'obiettivo senza contare che la zona play-off è ora distante di un solo punto, visto che il Castelfinaldo ha pareggiato 2-2 in casa con il Francavilla. Per la cronaca, il Fabriano Cerreto, terz'ultimo in classifica, si rende minaccioso al terzo minuto. Dal lato sinistro, tiro a giro, di destro di Pironullo, che colpisce la traversa. Dopo due minuti è ancora una volta Pironullo a mettere timore agli Aquilani direttamente da un calcio d'angolo, ma è pronto Farroni a respingere. L'Aquila però non sta a guardare e incomincia a prendere le giuste misure. Al decimo minuto arriva la prima rete del Rosso-Blu, azione di Ibe conclusa da Boldrini, che realizza il suo decimo gol della stagione. Al quindicesimo minuto l'arbitro annulla il centro di Padovani per fuorigioco. Un vero peccato, perché la palla stava già entrando in rete dopo il tiro di Steri. L'Aquila continua ad attaccare. Al ventisesimo minuto Boldrini raddoppia grazie al suo tiro al limite, che non lascia scampo al portiere Monti. Nella ripresa i marchigiani si buttano in avanti. Al settimo minuto tentativo di Pironullo, al limite con Farroni che respinge. Al sedicesimo minuto i Rosso-Blu realizzano il terzo centro, con Esposito che sfrutta al meglio l'assist del compagno Marra. Tre minuti più tardi l'Aquila protesta per un rigore, ma per l'arbitro è di parere contrario e sventola il cartellino giallo a Boldrini. L'Aquila cala il poker al venticinquesimo minuto, con una stafilata di Ranelli. Festa grande per l'Aquila calcio, che ora si concentra alla sfida di domenica in casa del Castelfinardo. Io credo che questa squadra sta dimostrando quello che volevamo e deve continuare così in vista di questo scontro del Castelfinardo di domenica. Se vincono mi rubano la cena, quindi toccherà a loro vincere questa sfida. Eravamo partiti abbastanza bene, avevamo fatto una bella azione per un nullo, abbiamo preso la traversa, però subito dopo non siamo riusciti a tenere. Perché al di là della bravura degli avversari, noi oggi dietro abbiamo concesso troppo sia agli attaccanti, ma soprattutto a un giocatore importante come Boldrini. Dovevamo fare determinati movimenti, invece non l'abbiamo fatto. Questo è un giocatore molto bravo, ha fatto questi due gol e ci ha messo in ginocchio. Questo per quanto riguarda il primo tempo. Il secondo tempo eravamo partiti anche discretamente. Volevamo aprire la partita, qualche occasione l'abbiamo avuta, però nel momento migliore nostro abbiamo preso il terzo gol e lì la partita è andata a scemare. Anzi, dovevamo stare attenti a prendere il quinto e il sesto gol, perché dopo il 4-0 avevo paura proprio di una goleata.